Ciao a tutti, in questo video parliamo di corsa. Vediamo insieme alcuni esercizi per i runners. Iniziamo con degli esercizi di mobilità e stretching dinamico, utili per migliorare la flestibilità delle nostre articolazioni e prepararle al lavoro successivo. Passiamo poi ad esercizi aerobici per aumentare la temperatura corporea e inalzare la frequenza cardiaca gradualmente. Proseguiamo poi con delle andature. Vediamo poi degli esercizi di attivazione ed esercizi funzionali. Ed infine degli esercizi per il defaticamento con stretching statico. Ricordiamoci che per una prestazione ottimale è sempre meglio abbinare agli allenamenti con le uscite di corsa anche allenamenti di forza di tutto il corpo. Proviamo insieme. Musica 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 Grazie a tutti. 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 Buon allenamento. Grazie a tutti.